bene ragazzi siamo sempre a marinello olivieri purtroppo volevo fare la crotta o meglio volevo fare il passaggio di questa grotta che ha tanti anni però ma da che ce l'hanno chiusa il passaggio effettivamente c'è però vanno a chiudere questa qui la vedete che sbuca effettivamente dai che dice da 7 ma fai ora la sentiamo fai ora e non perdere la carne tanto per forse la mano ha detto che non c'è un seguente questo è una grotta antichissima che fa e passa all'altro lato stiamo facendo la telecamera perché purtroppo non possiamo fare vivamente perché ci hanno messo la transenna sia di qua che sia dall'altro lato e quindi non possiamo oltre far sala che poi alla fine saranno e poi qua o 650 mesi saluti